Ci sarebbe una terza donna nella vita di Damiano De Fazio, l'agricoltore bruciato vivo, la sera di Santo Stefano a Mesagne, incontrare Epifani. Un episodio criminoso e macabro, messo in scena dai gnoti, ancora senza nome e ancora senza movente. Gli investigatori della squadra mobile di Brindisi, coordinati dal vicequestore Alberto Somma e coadiuvati dagli agenti del commissariato di Mesagne, non escludono alcune ipotesi, anche se le modalità dell'omicidio, il ruogo sarebbe partito dai testicoli e la turbolenta vita sentimentale dell'agricoltore dai natali francavillesi, lascerebbero propendere per la pista. Impressionale. A tal proposito, foto giornalistiche parlano di una terza donna con cui De Fazio aveva cominciato da qualche tempo una nuova relazione. Da un lato, quindi, la moglie e cinque figli. Dall'altro, la compagna, da cui aveva avuto un altro bimbo. In mezzo, la terza donna, ancora senza nome, il cui ruolo nella vicenda è ancora avvolto nel mistero. Così come resta tutta da verificare l'ipotesi del trio, confermata, sembrerebbe, dalle ultime parole pronunciate dall'uomo prima di morire. Di certo, il PM Luca Buccheri, titolare dell'indagine, continua a lavorare sulla vendetta privata, che poco nulla avrebbe a che fare con i piccoli precedenti penali di De Fazio, peraltro piuttosto datati, e allora sia il movente passionale unica e labile traccia di quello che resta un vero e proprio giallo.